Sono già iniziati i festeggiamenti per Santa Maria. Domani sera Teleclub Italia trasmetterà in diretta dalle 19 la solenne celebrazione in onore della Virgine Maria, poi lo spettacolo pirotecnico con l'incendio del Campanile. Intanto stasera ci sono altre celebrazioni. Don Vincenzo, si rinnovano anche quest'anno i festeggiamenti in onore di Santa Maria, si avvicina a quello che è poi il giorno fulcro fondamentale dedicato appunto alla Madonna. Quali sono gli appuntamenti previsti per questi giorni? Alle 20.30 ci sarà la Deia dei Giovani con la San Pio X. Li abbiamo radunati proprio per un ritorno di quello che hanno fatto seguendo il cammino e il pellegrinaggio dei giovani con l'incontro del Santo Padre. E noi ci mettiamo sotto lo sguardo di Maria proprio per continuare questo cammino, questo pellegrinaggio e questo prepararsi al sinodo dei giovani. Arriveremo poi al giorno 12, il giorno della festa. Alle 10 avremo la messa solenne. Subito dopo ci sarà la discesa del simulacro e sarà messa alla venerazione del popolo. E ci riuniamo alle 19 con la messa solenne conclusiva, a termine della quale porteremo il simulacro in piazza. e ci sarà quindi lo sparo dei fuochi con la simulazione dell'incendio del campanile. Ormai una tradizione che si è consolidata e invitiamo tutti innanzitutto alla preghiera e poi a questo momento conclusivo.